Musica Gentili telespettatrici e telespettatori di Telebelluno, ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo. Oggi vogliamo occuparci di una professione molto importante per la montagna, era in realtà da un po' che volevamo chiamare il nostro ospite, ne abbiamo approfittato negli unici momenti liberi proprio in questa giornata, nella sua attività che è fatta sul territorio, territorio dolomitico ma non solo. E allora scopriamolo insieme. Saluto e ringrazio Valerio Scarpa, buongiorno, ciao Valerio. Ciao a tutti. Allora, professione guida alpina, in realtà noi prima di iniziare questa trasmissione ho detto Valerio potremmo parlare di innumerevoli cose perché voglio dire titolare di Travel Sport ovvero un pool di guida alpine che organizza delle uscite sul territorio dolomitico ma non solo, anche all'estero, nonché gestore della Vertic Area, la splendida palestra di roccia a Santo Maso che ha un grande successo, veramente complimenti. Grazie. Ma con te vorremmo chiederti, perché ecco non so quanta rilevanza e quanta importanza e quanti soprattutto sanno cos'è la figura della guida alpina, come si diventa guida alpina Valerio, una scelta di vita, ci puoi proprio ripilogare sinteticamente il percorso per arrivare ad essere guida alpina? Volentieri allora, intanto il mestiere di guida alpina è un mestiere addirittura tutelato attraverso un collegio, quindi è un mestiere che si rifà a delle connotazioni fondamentali di pubblica sicurezza. Questo dà l'idea di quanto sia importante il percorso formativo. Il percorso formativo dura almeno 4-5 anni, quindi non è un percorso breve, è articolato in moduli che toccano tutti gli aspetti dell'andare in montagna. Quindi si va dall'andare in montagna da guida alpina, ovviamente salvi gli ambiti delle altre professioni, cioè non ci occupiamo dell'insegnamento dello sci in pista, ma ci occupiamo dell'insegnamento dello sci fuori pista e dello sci alpinismo, per esempio. Ci occupiamo comunque per quel che riguarda lo sci dell'accompagnamento lungo i grandi percorsi, grande guerra, piuttosto che ski safari, quelle cose che ultimamente stanno diventando veramente importanti come traino per il turismo in Dolomiti. Per quel che riguarda l'estate invece abbiamo tutta la parte che riguarda l'arrampicata, le vie ferrate, ricordiamoci che le vie ferrate nascono in Dolomiti, quindi siamo veramente nella culla dell'alpinismo sotto ogni suo punto di vista. La verticalità delle nostre pareti pone l'alpinismo dolomitico come uno dei più belli al mondo. Le ferrate abbiamo sicuramente la selezione più significativa di ferrate che possiamo trovare in giro, per cui siamo veramente fortunati. Oltre a questo ci sono poi le attività, chiamiamole un po' così, più collaterali come le ciaspole durante l'inverno e l'escursionismo durante l'estate. Escursionismo che condividiamo con una figura meravigliosa che è quella dell'accompagnatore di media montagna, che appartiene sempre alla famiglia delle guide alpine e che con una formazione specifica sul trekking, quindi anche sugli aspetti geologici, storici, naturalistici, culturali, eccetera, accompagna le persone dove non vi siano difficoltà o necessità alpinistiche. Ecco appunto, hai sottolineato, accompagnatori di media montagna e guide alpine. Non sono delle figure che devono essere in concorrenza, ma che possono collaborare, giusto? Però quando un turista sceglie di farsi accompagnare, di richiedere un'escursione con la guida alpina e quando un accompagnatore di media montagna, cioè chi può fare cosa? Perché tu ci hai parlato di quello che fate voi, ma un accompagnatore di media montagna può accompagnare i turisti in ciò che fate voi? Allora, sì, fintanto che non sono richieste competenze o strumentazioni alpinistiche per la progressione, vuol dire che per assurdo io posso, l'alta via numero uno, che sicuramente è uno dei nostri cavalli di battaglia estivi, è assolutamente affrontabile da un accompagnatore di media montagna con un gruppo, come lo possiamo fare noi, certo? Poi va detto che in realtà noi, è una professione la nostra in cui siamo abbastanza, noi non lavoriamo, io continuo a dirlo, mi dispiace perché magari può sembrare una brutta frase, noi siamo sicuramente pagati, parliamo proprio perché è una professione, per prenderci delle responsabilità a trasmettere delle competenze, ma nel momento in cui io ho la fortuna per lavoro, di fare le stesse identiche cose che faccio quando non lavoro, è difficile definirlo lavoro. C'è una responsabilità evidentemente, ed è grossissima, vediamo anche gli incidenti dovuti magari alla mancanza di quelle norme, quante volte voglio dire la cronaca ci riporta Valerio di incidenti che potrebbero essere evitati, specie in questo momento, che è l'ideale, questo momento della stagione per lo sci alpinismo. Sì, allora, mi servi un piatto meraviglioso che è quello della sicurezza. Allora, la sicurezza di andare in montagna non esiste, come non esiste la sicurezza in generale. Io so, io dico, se devo andare, oggi sono venuto giù a Belluno, so che fare la gordina è comunque. Quindi non si può parlare di sicurezza assoluta, sarebbe veramente sbagliato. Quello che è il nostro compito precipuo invece è altro, è garantire la massima sicurezza possibile. Questo sì. Quindi riflettere. Io continuo a fare, molte volte, non lo nascondo, quando magari una guida viene coinvolta in un incidente, in montagna può capitare, veniamo immediatamente attaccati, ecco voi che... No, attenzione, se io vado a vedere le statistiche, un autista professionista probabilmente è la categoria più coinvolta, poi negli incidenti stradali. Questo non significa che non sappiano guidare, significa che ovviamente esponendosi molto al rischio, perché io sto in montagna mediamente 250 giorni l'anno, più o meno, è chiaro che io ho un'esposizione al rischio maggiore. È anche chiaro che non sempre le cose magari vanno come si pensa, adesso tra l'altro con cambiamenti climatici, ma l'abbiamo visto, no, quest'inverno, cioè veramente abbiamo visto cose che non si erano mai viste prima e quindi spesso sono anche difficili da decifrare. Ecco, questo non significa non garantire un servizio, io garantisco un servizio, che è quello di mettercela tutta, ok? E grazie alla mia preparazione, alla mia presenza sul territorio, credo anche di, insomma, onorare correttamente alle attese di chi viene con me. Questo però non può esimermi ed esimere chi viene con me da un potenziale rischio che è insito nella montagna. Cioè, chiaro. Valerio, ci sono sufficienti figure di guide alpine qui nella nostra provincia? Perché vuol dire, ci ha parlato di un percorso molto lungo, un po' l'università, no, di questo mestiere, un po' la laurea, giusto? E allora i giovani, dice un po', com'è il movimento delle guide alpine qui nelle Dolomiti Berlunese? Sono felicissimo, abbiamo appena assistito a, sono partite le selezioni per il prossimo corso, al momento erano una ventina i candidati che hanno affrontato le selezioni della parte invernale, a cui si arriva con un curriculum importante e poi le selezioni sono comunque toste, e la ventina di candidati è passata. Quindi adesso arriveranno poi alle prove, diciamo, sulla roccia, che competono alle attività, diciamo, estive, ma mi auguro che veramente vada in porto, in toto questo meraviglioso gruppo. Abbiamo bisogno di guide alpine. Ecco, qui volevo arrivare. Ce n'è bisogno, quindi. È una figura, voglio dire, per un giovane che dà soddisfazioni, dà anche una sostenibilità economica, una scelta di vita importante, no? L'università della montagna, diventare guida alpina, cioè si può vivere, voglio dire, in parole povere. Io ho tre figli e ci vivo, faccio solo questo di lavoro. Certo, bisogna avere un po' una visione diversa magari da quella onirica della guida alpina che fa solo le cose bellissime, cioè bellissime per te. O che aspetti i clienti, voglio dire. Bisogna darsi da fare nel trovare le persone da accompagnare e bisogna lavorare in ogni ambito, cioè non bisogna, non è salire le pareti più belle e basta, e non è sciare le nevi più belle, è anche ciaspolare, trasmettendo però comunque la conoscenza. Quella cultura delle montagne che poi porta magari il ciaspolatore a dire ah però mi interesserebbe lo sci alpinismo oppure in estate a fare le ferrate. Lo vediamo e contemporaneamente siamo un po' la chiave con cui si apre un mondo per cui, non lo so, sentivo tutte le discussioni degli ultimi giorni sui rifugi che vogliono tornare al concetto di rifugio eccetera, sicuramente noi abbiamo questa possibilità di introdurre le persone nel modo corretto a una visione corretta della montagna. Valerio, parlavi prima di curriculum importante, questo è un termine che mi ha colpito, nel senso che per diventare guida alpina, voglio dire, bisogna avere soltanto passione alla montagna oppure avere già delle competenze di base per poter accedere poi a tutto l'iter di cui ci parlavi prima. Allora ve la spiego velocemente, uno arriva a presentare la domanda di ammissione ai corsi contestualmente alla presentazione di un curriculum che riguarda tutte le discipline che poi una guida alpina va a esercitare. Quindi occorre avere una buona selezione di escursioni sci alpinistiche, di difficoltà importante e di dislivelli notevoli, bisogna avere un buon curriculum riguardante le cascate di ghiaccio, quindi la rampicata su pareti verticali ghiacciate, bisogna avere un curriculum d'alta montagna, per noi non facilissimo perché viviamo in Dolomiti e l'alta montagna è un po' quel terreno che ci manca, quindi vuol dire che uno che vuol fare la guida alpina prende e si sposta, va sul Montebianco, Rosa, Cervino, eccetera, per fare quell'esperienza che probabilmente qui gli manca. Poi c'è un curriculum importante riguardante l'arrampicata, ovviamente, che è sia l'arrampicata sportiva in cui ufficialmente diciamo si richiede un grado di 6b+, viene classificato, che non è un grado elevatissimo, ma in realtà purtroppo ormai, purtroppo e per fortuna, il mondo dell'arrampicata è cresciuto, quindi si consiglia sempre di arrivare con almeno un solido 7A, il vecchio ottavo grado nella scala dell'alpinismo, quindi insomma anche lì, e delle vie di roccia di difficoltà veramente importanti, le super classiche delle Dolomiti, mi viene in mente, non lo so, una Costantini Ghedina, una Costantini Apollonio, una Soledder, un Philippe Flamme, una Don Quixote in marmolada, cioè tutte quelle vie che insomma dimostrano una competenza e una serenità nel muoversi in quel contesto, assolutamente. Fatto quello, ho presentato il curriculum, c'è una selezione di più giornate che riprende sul terreno ogni singola disciplina, che viene valutata da un pool di guide alpine istruttori. Se tutto funziona, discusso poi il curriculum, si entra ai corsi, i corsi durano, la prima parte dura circa due anni, in cui si susseguono i moduli con la stagionalità, ogni modulo ha un esame che va superato, superati tutti gli esami e tutti i moduli si accede a un esame finale e regionale che consente di operare in qualità di aspirante guida alpina. Si fanno altri due anni, diciamo così, di apprendistato con alcuni limiti, dopodiché si ritorna a fare tutta una serie di esami in ogni disciplina, ottenendo così il titolo di guida alpina UIAGM internazionale, con la quale ti puoi muovere in 80 paesi al mondo. Ecco, è riconosciuto. Veniamo all'ultima parte, abbiamo purtroppo soltanto qualche minuto Valerio. Allora, muoversi nel mondo, tu sei a capo di un pool di guide alpine travel sport, no? Ora adesso, appunto, non soltanto in Dolomiti, ma organizzi anche dei viaggi specifici per chi ama la montagna. Mi viene in mente Norvegia, piuttosto che Sardegna in primavera. Allora, non soltanto in Dolomiti, anche andare fuori. No, no, parto sabato, per cui, cioè domani, e andremo in Bulgaria per un viaggio sci alpinistico tra i monti Tatra e Pirin, quindi un posto un po' inusuale ed è bellissimo perché si combina l'incontro con una cultura decisamente diversa dalla nostra, con l'andare in montagna, e sono montagne belle e selvagge. Torniamo a casa e poi ripartiamo subito per il nostro viaggio classico in Norvegia, oltre il circolo polare e artico, andiamo sulla penisola di Lingen, le Alpi di Lingen sono il paradiso dello sci alpinismo. Torniamo a casa e ripartiamo subito per il primo Selvaggio Blu in Sardegna. Una curiosità, che aderiscono a questi particolari viaggi? Sono i turisti che tu hai accompagnato in precedenza o anche i bellunesi? Piace fare queste esperienze fuori? Allora, direi che io di provenienza sono veneziano, quindi sono arrivato a vivere qua su tardi, perché prima non potevo, altrimenti l'avrei fatto subito, e mi sono quindi prima creato un bello zoccolo di clienti amici con cui lavoro storicamente di Venezia. Ma è bellissimo il fatto che in realtà il bellunese si sia proprio aperto a queste nuove esperienze. Per darti un'idea partirò subito dopo Pasqua, anzi sì, in aprile vado a fare il primo Selvaggio Blu, lo faccio con un gruppo chiuso del CAI di Agordo, quindi per me è un onore, no? È un onore incredibile perché... È anche una soddisfazione, credo, no? Da Venezia, come dicono loro, no? Avere la loro fiducia per me è qualcosa di meraviglioso e gli ringrazio. Valerio, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, avremmo potuto chiederti tante altre cose, ma lo rifaremo magari in un secondo momento. Intanto ti ringraziamo veramente per essere intervenuto nei nostri studi, averci fatto chiarezza sulla vostra professione, quella di guida alpine, che è una professione, l'abbiamo capito, molto importante per la montagna. Quindi grazie a Valerio Scarpa. Grazie, grazie a voi. E a voi tutti, gentili telespettatori, l'appuntamento è rinnovato la prossima settimana per un altro numero di Dolomini di Turismo. Grazie a tutti.